Buonasera e benvenuti a Teleinfluenza, questa nuova rubrica su Facebook curata da me Francesco Mercatelli e Anna Cicarelli qui presente. Allora Anna, parliamo di questo programma. È preparato per moda, cari per i spettatori, perché siamo in un periodo dove quasi tutti quanti noi ci ammaliamo un po' di mali. Curati, ma no, ma è una stagione. Abbiamo pensato quindi anche a voi, come e in che modo offrendogli dei prodotti naturali, prodotti che vi fanno sereo bene. Come noi per esempio. Infatti il primo prodotto di oggi che parleremo, parleremo di tre prodotti in un pacchetto offerto da noi, ovvero dell'acqua di sirimione. Ecco, queste cose, acqua di sirimione. Ecco, noi offriamo questo pacchetto, acqua di sirimione, offriamo un Taki Fluss Deck e delle bussie di Auli al modico prezzo di 35 euro. E alle prime dieci telefonate regaliamo anche una scatola l'IVX usata dalla signora che non è decennuta, giustamente, ci ha regalato questo prodotto comunque per metà ancora pieno, che può essere recuperabile. Vero? Ecco. Può essere recuperabile. Forza anni così. Ecco, ed entriamo quindi nel budget della nostra attività. Però c'è un'offerta molto molto particolare, cari telespettatori. Noi abbiamo un termometro ancora al mercurio usato. Eccolo qui, quindi diciamo che questo termometro... Puzza ancora. Puzza ancora. Sì, è vero. È vero. E quindi noi regaliamo nel pacchetto offerto anche un termometro. Quindi ne piloghiamo, Anna. Allora, un Aulin, sono rimaste sei gustine. Andiamo una e mezza di Darkiflu, più acqua di Silmione, un Vicks VapoRub per effetto balsamico a metà, gentilmente, effetto dalla compianta signora Rachele. Eccola qua. E un termometro usato, sempre, della signora Rachele, che ci ha lasciato questo legalo simpatico. Ma non finisce qui, perché nelle prime dieci telefonate... Noi regaliamo un Pectovid. Eccolo qui, questo è un prodotto... Per mantenerti il petto sano, diciamo. E' un decongestionante. E poi decongestiona le prime vie respiratorie per una notte serena e tranquilla. Eccolo qui, Pectovid. Siamo davvero impazziti. I telefoni ci asquinnono, sono impazziti i telefoni. Ma Teleinfluenza vi prometterà che, grazie a Francesco e Anna, la origine è sempre a portata di mano. Eccolo! 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 Grazie.